in questa puntata di maialager parleremo dell'antico mistero misterioso in questa antica puntata di maialager parleremo di come sono antichi i toscani della civiltà toscana e come mai a roma non parlano il fiorentino e perché i milanesi sono milanesi e non arretini sì ma questo è un mistero e noi ne parleremo sì ma dopo la pubblicità allora bucaiolo una volta ero su sui monti e me l'ho fatto un cannone a un certo punto ho sbuato un marziano ho visto i marziani c'è il triangolo delle vervude e soprattutto perché a torino non si mangia il cantuccino è nata prima la bistecca alla fiorentina o il risotto alla milanese questo è un vero mistero noi non lo sappiamo ma è anche vero che forse la lasagna la bolognese è nata ancora prima della bistecca alla fiorentina per questo noi non lo sappiamo ma andiamo a intervistare un noto notologo ecco la famosa la famosa pizza ecco la pizza alla bolognese ecco la pizza la vera pizza la fa la bologna capito c'è il piatto tipico bolognese per l'eccellenza che è la pizza che è la pizza a bologna capito che la famosa bufala di bologna ecco la pizza alla bolognese che poi anche a Napoli l'hanno copiata capito c'è ma la pizza è data a bologna e perché in montagna non c'è il mare questo è un mistero misterioso che noi non sappiamo ma lo andremo a accelerare dopo la pubblicità per quanto concerni a sì ma dopo la pubblicità è veramente Elvis Presley e Michael Jackson sono stati beccati all'isola d'Elba a mangiare un cono gelato da 2 euro e 50 e proprio oggi 25 luglio è stato assegnato il premio Nobel per la pace al nord coreano Kim Jong ma allora grazie a tutti vi volevo ringraziare me lo sono meritato io sono sempre stata una persona pacifica una persona comunque ho sempre rispettato il prossimo e non se mi ha fatto di male a nessuno non mi ha fatto di male a nessuno e questo premio diciamo che un po' me l'aspettavo un po' me lo sentivo me l'aspettavo voglio ringraziare a tutti speciali quelli di Circolino grazie a tutti senti guarda secondo me c'è qualcosa di strano non voglio dire ci siano gli extraterrestri o gli alieni che vengono a Marti ma c'è qualcosa di strano io la sera andavo a letto e vedo delle luci strane e non sono lampioni non gli è il riflesso di vetro gli hanno alieni e non vi voglio dire altro in Italia c'è gli extraterrestri